Caterpillar Ve lo ricordate ascoltatori di Caterpillar, ve lo dico alle 18.59 avevamo Caterpillar Distribution, la nostra società di distribuzione cinematografica, l'avevamo abbandonata perché il cinema di fatto è morto. Oggi Zambotti è tuo no, il cinema è risolto, viviamo esposti alle temperi umorali di questa donna, perché l'ho pensato Zambotti? Perché ci rifà piacere a Caterpillar quando una storia che noi abbiamo promosso era il 2014, abbiamo ricevuto la mail di un regista che ci diceva noi abbiamo fatto un film, lo hanno fatto tutti gli abitanti di un paese di Casole, siamo in provincia di Siena, noi di solito abbiamo molto raccontato i fenomeni di crowdfunding, si ricorda le funne, le signore trentine... Se poi l'era passata l'oglia, buttammo tutto alle ortiche, mi chiedevo perché l'è tornata proprio oggi che è venerdì. Questo non è neanche un crowdfunding, questo è un film completamente no budget, tutto il comune, dal sindaco alla polizia, i carabinieri, tutti i cittadini, la barista, si sono messi insieme, hanno fatto un film e in questi tre anni l'hanno visto 10.000 persone e oggi arriva a Milano. E allora, ospite con noi, nello splendore di Caterpillar, Distribution Ressuscitata, il regista di Il Seme e il Mare, Riccardo Casamonti. Il Casamonti, Casamonti, che piacere. Piacere mio, buonasera alla dottoressa Zambotti, buonasera al dottor Cirri, buonasera agli ascoltatori di Caterpillar. Si noti la compostessa del Toscano alla radio, una classe superiore. Qualcuno ci ha fatto da battistrada. Diciamo che per me, tra l'altro qui fuori, ci sono i miei validissimi attori, mi hanno accompagnato, siamo felicissimi, si chiude un tempo, si chiude un cerchio, qui a Caterpillar, dove tre anni fa il dottor Cirri, lanciando le sole due date all'ora di San Donato Impoggio, e Tavarnelle e Valdipesa, come fossero il passaggio a Cannes della vita è bella, ha aperto un'autostrada, ne sono venute altre 58, 10.000 spettatori in tutta Italia e non solo. Il TG1 ha parlato di voi. Il TG2. Noi sempre fedeli alla rete 2. Esatto, il TG2. La Grace Kelly della televisione italiana, Maria Concetta Mattei, ha lanciato un servizio sul Seme del Mare di Tommaso Ricci. Ok, il Seme del Mare è il titolo, in effetti andava detto, ce l'eravamo un attimo perso. Io l'avevo detto a SSL, guarda il regista, non mi ascolta. Perché c'è il regista. Succede spesso. Mi piace, il crocifiggio della Zambotti è il mio sport preferito, me le fa pagare tutte. Tutte, tutte. E allora, Casamonti, questa sera un po' l'incoronazione milanese, perché presenterete il film qui, alla presenza del Questore di Milano, con una presentazione di Claudio Bisio, addirittura del vostro film. Che cosa vuol dire mobilitare un intero paese? Non parliamo di 200.000 abitanti, ma di più o meno 3.000 o 4.000. però tutto coinvolto nella produzione di un film. Vuol dire vivere una grande avventura. Questo è stato per noi, è iniziata così, poi dopo è diventata anche una grande favola. Un paese che racconta una storia, come ben dicevate, dalla barista, dalla bidella, dall'anatomo patologo, dal prete al contadino, tutti insieme, con un'idea, far rivivere lo spirito del racconto di veglia dei nostri nonni. La narrazione. Bravissimo. Che è stata inventata in Toscana. Omero era... Cosa? Non è stato inventato? Omero era di Barberino. Omero era di Cibagno a Ripoli. Certo, cioè l'unica bagno a Ripoli che mi si è eccita da Zambotti, Casamonti. E quindi, diciamo, con un'idea, fare un film basato su questa voglia di recuperare l'importanza delle relazioni, quindi prima di tutto noi stessi, magari alzare gli occhi dal nostro palmare o dallo schermo di una TV per incontrare gli occhi dei nostri vicini, dei nostri amici e raccontare una storia insieme. Mi fa piacere che avete ricordato, e anche stasera è bello perché poi ci hanno seguito nella nostra distribuzione in sala due istituzioni importanti, la polizia di Stato, l'arma dei carabinieri. In ogni proiezione vengono sempre carabinieri e polizia. Diciamo, non sempre abbiamo un palcoscenico così importante, però nelle grandi città il senso era quello di essere presenti in mezzo alla comunità, però lasciatemi dire perché questo forse è più interessante per gli ascoltatori che adesso con due monumenti della radiofonia italiana... Non blandisca, non blandisca. Con la presenza di Claudio Bisio è più facile avere anche le istituzioni, però la questura di Siena e il comando provinciale dei carabinieri di Siena hanno creduto a questo... Cioè hanno recitato nel film? No, non hanno recitato ma hanno messo a disposizione mezzi, divise, tutto ciò che era necessario quando uno sconosciuto, il sottoscritto, Riccardo Casamonti, cioè nessuno, ha avvarcato la soglia di una questura, di un comando per chiedere venite con noi a caso e a fare il film. Invece di chiedere i documenti... Invece di chiedermi i documenti... Hanno detto ce ne parli, ma che cosa... Marli hanno accettato e non avevamo neanche la presenza tra l'altro di Claudio Bisio, però hanno creduto in un'idea che devo dire nella proiezione di Washington, perché questo film è uscito anche negli Stati Uniti... Ma all'insegnamento di Trump c'era il seme del mare? Era un po' prima, era in gennaio... Voi non sareste andati all'insegnamento... Tirava un altro vento, all'Italian Cultural Institute con una presentazione del professor Stuart Plattner che è un insegno antropologo che ha curato, che si occupa di arte e ha curato la versione inglese del seme del mare. Questo però, il linguaggio della civiltà che ancora in Italia sappiamo parlare, polizia e carabinieri con la barista, come dicevate voi, con la seme in un film che non si sapeva neanche se riuscivamo a finirlo, hanno colpito molto e per una volta possiamo anche essere orgogliosi. Quindi no budget significa che anche gli imprenditori locali di Casole, di tutto il circondario, hanno messo a disposizione le loro risorse, ma non come sponsor, Ciri, perché se hanno no budget non si può risultare come no sponsor, esatto. No logo, si filma. Non niente, ma è proprio così. Bravissima, Sara, anche questa è una cosa... Non blandisca, eh. Ma anche se blandisce un po'. Invece ha colto un punto molto interessante, probabilmente. Ho colto i Ciri, se colgo, colgo. Perché noi abbiamo detto a queste persone, a questi imprenditori, aiutateci, ma se volete partecipare al seme del mare, lo spirito è il nostro, sarete narratori di veglia. Questo vuol dire che il vostro nome non ci sarà nella locandina, nessuno lo saprà, ci avrete aiutato, ma solo per il piacere. E il ferramenta di Casole, c'è la messicheria, ha accettato lo stesso di esserci senza figurare? Guardi, dottor Ciri, di più noi abbiamo girato nella residenza di Giulio II, adesso non voglio appunto coerente acquistare e fare pubblicità, ma in un relai esclusivo, 5 stelle. Dove spennano gli americani, che è una meraviglia. Esatto, bravissimo, abbiamo autostoriche, dimore storiche, quindi anche risorse importanti. Il service, chi ce li dava ai microconti? Chi ce li dava? Chi ce li dava? Non so. Ma non credo. Adesso la sfida è non farlo nel Chianti, meraviglioso, in irlo a fare magari a Cernusco, questi posti guido. Questo potrebbe essere un noir metropolitano, che non è il mio linguaggio. Ma stasera la proiezione al cinema Beltrade di Milano sia sempre santo il Beltrade, insieme a Bisio ci sono polizie e carabinieri di Milano? Ci sono, sì, assolutamente i vertici, assolutamente i comandanti, i dirigenti saranno con noi per dare proprio plasticamente, concretamente, questo segno. Casamonte, glielo dica alle ragazze del Beltrade che arrivano in carabinieri, non vorrei che fossero, poi mi si spaventano perché fanno un cinema molto ruspante. L'altra cosa, questa cosa fatta a caso le Delsa, senza soldi, è un esempio di quella cosa molto toscana, il piacere di fare una bischerata, di farla tutti insieme, di farla benissimo? Sì, però forse c'è dentro anche il sogno di recuperare il racconto di Veglia, che poi non è una tradizione solo toscana, la via in Piemonte. Grazie Casamonte per dirlo, perché qua non ci si riesce a sbottare dall'imprinti. Però la sera fu inventata in Toscana, insomma, prima c'era solo... Beh, ricordiamoci che le due più grandi forse narrazioni conosciute, Pinocchio e La vita è bella del maestro Roberto Venigni, sono due grandi racconti di Veglia, quindi diciamo... E' la ripresa di quello. E' la ripresa di quello, di un modo di stare insieme per il piacere di condividere la magia di una storia. Che bella cosa. Grazie mille, noi ringraziamo allora Riccardo Casamonte, il regista. E riteniamo giù la clare di Caterpila Distribuncio, perché Gioambotti ha chiuso. Io vi ringrazio, invito gli ascoltatori stasera alle 21.30 a Milano al Cinema Veltrade. Ultima cosa, dal 17 febbraio, la versione internazionale completamente gratuita su YouTube. Per chi non può venire a Milano, lo aspettiamo lì. Ringraziamo Claudio Bisio e gli straordinari conduttori di Caterpila. Grazie a voi, buonasera. Caterpila Distribution c'è, quando c'è cultura. Chiudiamo o andiamo avanti con la Distribution? Chiudiamo, chiudiamo, perché andiamo ad ascoltare quello che Marta Zoboli ci insegna che possiamo copiare dalle altre nazioni d'Europa. A Veglia. A Veglia, a Veglia.